Buongiorno Ministro Nordio. Buongiorno a lei. Bella notizia l'arresto di Matteo Messina De Naro. Eh, non ti dico. Come non? È proprio il giorno in cui voglio dare una bella razzata intercettazione. Voleva limitare. Arresto di Messina De Naro. Eh, va beh. Tutti a dire che le intercettazioni servono, le intercettazioni servono, parco di un Trojan. Oh, oh, cosa dice Trojan? Allora, c'è il software Trojan che si mette ai telefonini per intercettare. Certo, però servono le intercettazioni. Ma sì, ma per i mafiosi. Ma non solo. Non per la persona, per bene. A cosa c'entra le persone? Perché come diceva Pasquale, se interessanti le persone per bene non ti manca un amico. Sì, ma per i magistrati sono fondamentali. Ma le persone per bene no. Tipo quelli che sono scesi in politica o ma sono dell'altro. Di chi parla? Un imprenditore per bene. Ma che? Che ha usato le cose dell'altro. Ma di chi sta parlando? Ma di chi sta parlando? Ma sono tipo... Ma tipo? Ma tipo... Tipo chi? Berlusconi. Ah, certo. Infatti in questi giorni la sta appoggiando tantissimo. E te credo. No, ma tra l'altro. Lui non ha bisogno dei Trojan. Non so, questi pullman. Lasci stare. Lasci stare. Io ti dico messina dell'anno. E quindi? E quindi che succede? E quindi moneta che ha metto in merda? Si dimette? Eh no. Ah no? Faccio come diceva Sexpin, Giulietta e Alfa Romeo. Cos'è Giulietta e Alfa Romeo? Facciamo retromarcia. Tanto sto governo sono le cose che ne vengono in merda. È vero. 25 sul 9 e in streaming su Discovery+. Cos'è…